Il risultato maggiore che ho ottenuto con i prodotti Bissol è il fatto di non usare più trucco. Ciao mi chiamo Elisabetta e ho 45 anni, utilizzo i prodotti da circa cinque anni. Ho trovato in Martina una persona molto molto professionale, molto empatica e molto sincera. Inizio la seguivo solo per i video e poi ho iniziato a utilizzare i prodotti e ho visto veramente la differenza netta rispetto anche ai marchi di profumeria che magari ti danno quell'effetto tensore ma semplicemente perché ci sono un sacco di schifezze all'interno perché in realtà quando poi usi prodotti che fanno bene alla pelle non c'è bisogno di altro che mantiene le promesse e che rispetto a tanti altri prodotti è già tanto, perlomeno i prodotti che ho provato io fino adesso non lo facevano. Ringrazio tutti, ringrazio Martina in particolar modo e ovviamente di aver creato questa linea di prodotti Bissol.